È preciso compito quindi delle istituzioni, come provvede la Costituzione, di rimuovere le profonde disuguaglianze che panellizzano molti giovani, relegandoli così ai margini della comunità. Penso soprattutto ai minori e ai fattori che incidono negativamente sulla loro crescita. Tutto ciò è inaccettabile perché la povertà educativa indebolisce fortemente lo sviluppo e le prospettive delle nuove generazioni, alimentando fenomeni distorsivi che minano l'integrità sociale delle comunità. Un'adeguata educazione va garantita non solo alle giovani generazioni, ma anche a quanti rischiano di rimanere indietro. Di qui la necessità di assicurare a tutti una formazione permanente che consenta loro di accrescere e aggiornare le proprie conoscenze e competenze lungo tutto l'arco della vita. Auspico dunque che la politica investa con coraggio e determinazione sull'educazione e sulla formazione umana, culturale, civile, dei giovani e di tutti. Vi ringrazio.